Ogni mese su Infinity, nuovi film e nuove serie alimentano la tua passione. A ottobre, insieme a migliaia di altri titoli, arrivano... Lenta, decisa pressione sul grilletto. Mia garantia, ti voglio raccontare tutto quello che non ho avuto modo di raccontarti. Mi dispiace. Madre, milioni di persone sono già morte. Questa è casa mia. Aspetta, fammi dire un altro. Ripartiamo proprio da capo. Luce! Nena! Mort, tua vita nera. Oh! Ciao! Ciao! Grazie per la visione!